Agevolazioni e sconti grazie alla Cilento Scard. E' questa l'iniziativa portata avanti da Eros Lamai, da sindaco di Castelnuovo Cilento. Un formidabile volano per l'economia, non solo del proprio comune, ma di tutti quelli che vorranno partecipare. Un modo per agevolare i cittadini cilentani e i turisti che arriveranno e promuovere il territorio a sud di Salerno. Riguarda la creazione di un centro commerciale naturale, che non riguarda solo inizialmente Castelnuovo Cilento, ma può benissimo riguardare tutto il Cilento e quindi cosa fare in sostanza? Far risparmiare i cittadini dove vanno a comprare gratis con una card che il comune di Castelnuovo Cilento fornisce alle varie famiglie di Castelnuovo, quindi risparmia il cittadino, ha un ritorno commerciale il commerciante stesso, quindi spinge l'economia del nostro comune e quindi dei comuni che aderranno a questa iniziativa naturalmente. ed è un formidabile momento volano di promozione del nostro territorio, del Cilento, perché la card si chiama Cilentos e naturalmente i cittadini che hanno questa card gratis possono spendere, possono risparmiare, comprando nei negozi convenzionati con Cilentos in tutti i casi. Chi ha in mano questa card e si rega verso un'attività commerciale convenzionata avrà uno sconto? Avrà uno sconto e avrà un ritorno naturalmente anche il commerciante stesso che si convenziona gratis con Cilentos, con Vision 55 e avrà un ritorno naturalmente anche l'ente promotore, voi comune, voi prologo, voi associazione sportiva che spinge per acquistare queste card. Naturalmente, perché a livello nazionale? Perché si può acquistare su tutto online, sul sito, sui negozi convenzionali in tutta Italia, ma il turista che viene in Cilento e a cui viene data questa card, da un commerciante, può acquistare con questa card di Cilentos in tutta Italia i negozi convenzionali a Torino, a Milano piuttosto che a Roma. Quindi Cilentos gira. Un circuito nazionale. Un circuito nazionale, quindi Cilentos gira. Quindi anche promozione di tutti i nostri, quindi non solo il centro commerciale naturale, ma volano, formidabile, di promozione del nostro territorio. Chi acquista questa card può, appunto, comprarla, gira sempre Cilentos, il nome Cilentos, che è il nostro territorio e naturalmente ha una moneta digitale che può tesaurizzare in questa card. Ecco, il messaggio quest'oggi, questa mattina, è rivolto sia naturalmente ai cittadini di scaricare l'app, di recuperare la card, ma anche ai colleghi sindaci, perché l'iniziativa può essere condivisa con altri primi cittadini. Sicuramente, io come rappresentante comunale del Parco stimolo, spingo tutti gli altri sindaci a fare la stessa iniziativa con un minimo di investimento, prendere queste card, donarle a tutti quanti i nostri cittadini, alle varie famiglie, per spingere sia il commercio locale, ma soprattutto creare e spingere il commercio territoriale e spingere ancora per il nostro Cilento. Ha tante spinte innovative, ma questo è un qualcosa in più e in meglio. Allora, noi abbiamo sostanzialmente un albo dei fornitori, che sono i nostri commercianti, che entrano in maniera totalmente gratuita nel nostro circuito e avranno a disposizione tantissimo materiale, nonché consulenti, per sviluppare il loro business. E quindi, pagando zero euro, possono avere di contro che cosa? Tanti clienti che vogliono ottenere un risparmio. Noi con loro condivideremo una commissione che ci daranno, i nostri clienti, soprattutto in questo territorio, riceveranno la V-Card Cilentos e quindi in tantissime attività, come diceva il dottor Lamaida, sul territorio e non solo in tutta Italia, ma anche online, potranno andare a fare i loro soliti acquisti e ottenere un ritorno economico da poter rispendere. Quante attività commerciali al momento già sul territorio hanno aderito? Allora, noi operiamo sostanzialmente su due linee. La linea dell'offline, che sarebbero i negozi sul territorio, quelli su strada, ad oggi sono oltre 4.200 in maniera multisettoriale. Poi abbiamo ovviamente anche quello che è il mondo attuale, quindi l'online, già tanto si compra su internet e abbiamo stretto accordi con tantissime aziende. Parliamo di booking, parliamo di telecom, parliamo di tutto quello che oggi sono le measure dal punto di vista dell'online. Allora, siete partiti da qualche giorno? Lei è una delle attività dell'imprenditrice che ha subito aderito, la sta presentando ai suoi clienti? Certo che la sto presentando, è molto gradita, i clienti diciamo che ne sono molto avvantaggiati, per cui capendone il meccanismo riescono ad utilizzarla in tutta la rete delle attività che è stata formata nel nostro Cilendo e nello stesso tempo mi promuovono il territorio, ci promuovono il territorio qui e al di fuori del Cilendo, quindi in tutta Italia in questo momento. Allora, un messaggio ai nostri telespettatori, un vantaggio a prendersi naturalmente, a fornirsi subito di questa card? Il vantaggio è essenzialmente che ad ogni acquisto che il consumatore finale, possessore della card, risparmia un pochettino in card, quindi moneta elettronica in card da rispendere nel circuito, per cui i possessori della card rientreranno nelle nostre attività rispendendo la moneta accumulata, potere d'acquisto. Allora, oltre che la card, la cardacea in mano, abbiamo anche l'app, giusto? Sì, esatto, c'è un'app che in questo territorio è utilissima, perché oltre a far trovare le attività convenzionate nel circuito, dà anche la possibilità alle persone di geolocalizzarli e quindi di raggiungerli senza fatica. Si occupa di comunicazione, insomma, questo nome è Cilentos, dove arriverà? È sicuramente in tutta Italia, che è il primo nostro obiettivo, ma speriamo presto anche all'estero, questo è l'obiettivo che ci poniamo, certo. Grazie.